6 minuti e 40 secondi per un vantaggio nel contatto 6 minuti e 40 secondi per un vantaggio 6 minuti e 40 secondi per un vantaggio 7 a 30 della terza quella è la macchina per un vantaggio 5 da 3 si vada a tremando orrivolmente a tempi 6 minuti e 40 secondi per un vantaggio 7 minuti e 40 secondi per un vantaggio 3 minuti e 40 secondi per un vantaggio 6 minuti e 40 secondi per un vantaggio Grazie a tutti. Grazie a tutti.